L'ASCOM Fondi di Chiara Guerra e Megastore. Con una lettera inviata al sindaco Salvatore De Meo e all'assessore all'attività produttiva e onorato De Santis, l'Associazione dei Commercianti chiede di inibire il rilascio di nuove autorizzazioni per grani e medie strutture di vendita nel territorio della città di Fondi. Come è noto, l'ASCOM aveva già lanciato l'allarme e la preoccupazione dei tanti piccoli operatori commerciali per la presenza delle numerose attività aventi superficie di vendita superiore a 250 metri quadri, che vengono definite medie strutture di vendita dal cosiddetto Decreto Bersani e dalla legge regionale 33 del 1999. I dati dell'Osservatorio regionale sul commercio riferiti agli anni 2007, 2008 e 2009 spiegano dall'ASCOM ci dicono che sono presenti nel nostro territorio 34 medie strutture di vendita, di cui 23 del settore merceologico alimentare e 11 aventi settori merceologici misti. Esse sviluppano complessivamente una superficie di vendita pari a 22.880 metri quadri, di cui 15.056 nel settore alimentare e 7.824 sia di alimentare che non alimentare. Questi dati in sé non direbbero nulla se non rapportati al fatto che essi rappresentano oggettivamente circa il 10% della superficie di vendita delle medie strutture della provincia di Latina e che inoltre sono di fatto assorbenti tutti gli indici di incremento e di disponibilità di cui il Comune di Fondi poteva usufruire, in base sia alle leggi regionale 3399, articolo 52,2, sia in base al documento programmatico per l'insediamento delle attività commerciali su aree private. Tanto che l'associazione presiduta da Vincenzo Mangione parla di saturazione della rete distributiva commerciale e spiega che ogni altro intervento di autorizzazione potrebbe non solo appesantirla ma addirittura determinare quel fenomeno di eccesso di offerta che induce tanti consumatori a polverizzare i loro acquisti con grave danno per tutte le attività commerciali nella nostra città, sia piccole che medio-grandi. Bisogna inoltre considerare, concludono nella missiva indirizzata al Comune, che gli effetti che tali strutture determinano sulla mobilità interna ed esterna della città per via dei flussi commerciali che generano e che creano non poche problematiche per l'accesso e l'uscita dal centro urbano, soprattutto in direzione di alcuni direttrici verso Roma e in coincidenza con alcuni incroci interni.